Edilizia Popolare, proseguito il dibattito in aula. Sicurezza delle acque potabili in Piemonte, i consiglieri Bertola, Frediani e Sacco hanno interrogato sul tema l'assessore alla sanità. Drapò, 600 anni d'amore, al via una fitta serie di iniziative dedicate alla bandiera del Piemonte. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, sono iniziate nell'aula a consigliare le votazioni sul disegno di legge in materia di edilizia popolare. Con l'approvazione dei primi due articoli è proseguito in Consiglio regionale l'iter del disegno di legge sull'edilizia popolare presentato dall'assessore Chiara Caucino. I principali nodi del provvedimento sono due. Il primo è legato agli anni di residenza in Piemonte, 15, 20 o 25 anni richiesti per poter accedere alle graduatorie per l'assegnazione della casa popolare. Il secondo ad una quota di alloggi popolari che sarebbero riservati alle forze dell'ordine. Noi vogliamo valorizzare coloro che per 15, 20, 25 anni hanno avuto residenza sul territorio piemontese e conseguentemente hanno in qualche modo contribuito alla crescita economico, sociale e culturale della nostra bellissima regione. Ci sarà una lotta ai furbetti, ci sono dei controlli sui beni mobili di lusso che siano macchine, che siano moto, ciclette o caravan di lusso. C'è un controllo sulle proprietà in Italia e all'estero, perché se hai un'altra abitazione in Italia e all'estero non è giusto che accedi a una casa popolare. Finora, sul testo di legge che conta sei articoli, sono stati presentati 193 emendamenti prevalentemente firmati dai gruppi di opposizione. Per arrivare più in fretta alla sua approvazione, i tempi della discussione in aula sono stati contingentati. Non affronta le questioni fondamentali che sono, primo, cercare di mettere sul mercato più alloggi di edilizia residenziale, secondo, recuperare anche da parte della regione un piano casa vero che metta assieme l'edilizia residenziale pubblica, ma anche l'edilizia agevolata, l'edilizia sovvenzionata. In Piemonte le acque potabili sono sicure, così l'assessore Luigi Cardi in risposta alle interrogazioni dei consiglieri Bertola, Frediani e Sacco. Le sostanze per fluoroalchiliche nell'acqua degli acquedotti piemontesi risultano a livelli fortemente inferiori ai limiti previsti dalla legge. L'acqua analizzata rispetta dunque i parametri di potabilità e non si ipotizzano rischi immediati per la salute. Difficilmente saranno introdotti obblighi di controllo aggiuntivi sulle acque. Questa la risposta che l'assessore alla sanità Luigi Cardi ha dato in aula nell'ambito dei question time alle interrogazioni dei consiglieri Giorgio Bertola, Europa Verde, Sion Sacco, Movimento 5 Stelle e Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, che hanno evidenziato che già cinque paesi europei hanno presentato una proposta per vietare i PFAS in tutta l'Unione Europea a partire dal 2026. In Piemonte, hanno aggiunto gli interroganti, circa 125.000 persone potrebbero aver bevuto acqua contaminata. L'evoluzione degli ultimi anni della normativa europea, ha rimarcato l'assessore Icardi, ha previsto il progressivo aumento dei controlli, oltre che nell'ambiente e anche negli alimenti e nelle acque potabili, definendo dei limiti di accettabilità. La direttiva UE prevede che la Commissione europea individui entro il 2024 i criteri per le verifiche affinché entro il 2026 gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano. Diritto di voto per i fuorisede ricevuta a Palazzo Lascari su una delegazione di studenti. Il Presidente Stefano Allasia e i componenti dell'Ufficio di Presidenza Gianluca Gavazza, Ivano Martinetti e Daniele Valle hanno ricevuto alcuni rappresentanti degli studenti universitari che hanno chiesto al Consiglio di farsi parte attiva nel sollecitare il Governo ad approvare misure che consentano l'esercizio di voto agli elettori fuorisede. L'incontro è stato promosso dal consigliere Mario Giacone, Monviso. Erano presenti diversi altri consiglieri di opposizione e maggioranza. In Piemonte hanno rimarcato gli studenti. Su circa 131.000 universitari, 35-40.000 sono fuorisede, molti dei quali dovrebbero sopportare costi elevati per tornare a casa nel periodo elettorale per votare. Il Presidente Allasia si è detto pronto a tener conto delle indicazioni ricevute, sottolineando anche come, eventualmente, si debbano trovare sistemi di votazione a distanza che garantiscano la sicurezza e non consentano lo spostamento di pacchetti di voto su collegi predeterminati. Sul tema, l'Aula ha poi approvato all'unanimità anche un ordine del giorno presentato da Daniele Valle, Partito Democratico. Oltre a quello riguardante la partecipazione al voto degli studenti fuorisede, via libera all'unanimità da parte dell'Assemblea anche ad altri due ordini del giorno, affirma Silvana Cossato, Liberi Uguali Verdi e Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, per accogliere in Piemonte i bambini palestinesi bisognosi di cure. Drapò, 600 anni d'amore, presentato ricco calendario di iniziative dedicate alla bandiera del Piemonte. Il Drapò del Piemonte, un emblema storico di grandissimo valore, compie quest'anno 600 anni. Per celebrare questo importante anniversario, l'Associazione Festa del Piemonte al Cold La Sieta il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino e l'Associazione Culturale Lingua Doc, in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte, hanno lanciato nel giorno di San Valentino la campagna Drapò 600 anni d'amore, con un fitto programma di iniziative. Conferenze, concerti, pubblicazioni dedicate e performance artistiche che avranno come filo conduttore l'amore per il Piemonte e per la sua storia. 600 anni d'amore, proprio San Valentino, festa degli innamorati, e l'amore per il Piemonte, l'amore per il nostro vessillo, per il Drapò. Dobbiamo ricordare quello che è stato il Piemonte, quello che è e quello che sarà. Il Drapò, nato il 15 agosto 1424, è uno delle insegne territoriali più antiche d'Italia. Questo simbolo rappresenta la storia, la cultura, il senso di appartenenza e l'identità stessa del Piemonte. Noi abbiamo voluto segnare il passaggio dal Drapò, che ha accompagnato tutta la grande stagione del risorgimento, al tricolore. La data che abbiamo scelto, l'evento che abbiamo scelto è il 17 marzo del 1861, proclamazione del Regno d'Italia, nasce l'Italia unita. E allora, in quella data, quest'anno e anche il venerdì e sabato precedenti, riapriremo, grazie al sostegno del Consiglio regionale, il nostro Parlamento subalpino, quella che era la Camera dei Deputati. Esodo, questo il titolo dello spettacolo di Simone Cristicchi in occasione del Giorno del Ricordo. Qui sono lettere scritte da chi si giurava per sempre l'amore. In occasione del Giorno del Ricordo, Simone Cristicchi ha presentato al Teatro Ragazzi e Giovani di Torino lo spettacolo Esodo, racconto per voce, parole e immagini, incentrato sulla tragedia delle foibe e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati. È come se fosse un museo suo malgrado, oppure un cimitero degli oggetti. L'evento, proposto dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, la città di Torino e il Polo del Novecento, ha raccontato attraverso parole, canzoni e immagini una pagina drammatica della storia italiana, che vide oltre 300.000 persone lasciare le proprie case nei territori dell'Istria e della fascia costiera, che l'Italia dovette cedere alla Jugoslavia in seguito al Trattato di Pace del 1947. Presenti alla serata, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasi e Daniele Valle. Una serie di iniziative che abbiamo dedicato non solo al Giorno del Ricordo, ma anche al Giorno della Memoria e al 25 aprile. Con l'idea che costruire una memoria condivisa passi anche dal superamento degli steccati, da questo gioco un po' stucchevole che ogni anno si ripete, per cui ognuno sceglie il pezzo di storia del Novecento che vuole ricordare. Lo spettacolo Esodo nasce da una ricerca storica che ho fatto sulla storia del confine orientale, le foibe e il conseguente esodo istriano, Fiumano Dalmata. Ha preso la forma di una sorta di musical civile, perché accanto alla narrazione di fatti storici ci sono anche delle canzoni inedite che ho scritte appositamente per lo spettacolo. Nell'ambito delle molte iniziative organizzate dal Consiglio regionale per celebrare il Giorno del Ricordo è visitabile fino al 23 febbraio presso le vetrine dell'ufficio relazioni con il pubblico in via Arsenale 14 la mostra I nostri stemmi, organizzata dalla sezione di Torino dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Una mostra fatta dai nostri soci, due o tre soci, che hanno avuto l'idea di rifare tutti gli stemmi dell'Istria un po' per la nostalgia del paese e della cittadina lasciata, un po' perché non potevano più rientrare. E allora con questo si sentivano un pochino più vicini a casa. Il presidente Stefano Allasia e il componente dell'ufficio di presidenza Gianluca Gavazza hanno ricevuto a Palazzo Lascaris la Bà e la Bela Tulera, le maschere tradizionali di Chivasso, il Conte e la Contessa di Castelrosso e la Cavulera e il Mulinè di Rondissone. Parlare delle maschere di Carnevale, ha affermato il presidente Allasia, è un modo per far conoscere e valorizzare la nostra grande varietà territoriale, espressa anche dalle tradizioni di quasi 1200 comuni piemontesi. Sentiamo le parole di Gianluca Gavazza. Abbiamo voluto coinvolgere anche i carnevali, quelli dei paesi, perché il Piemonte ha 1180 comuni. E' bene che questi territori possano venire qui a Palazzo a vedere dov'è la casa dei piemontesi, dove facciamo leggi. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.com www.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! www.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Piemonte. www.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Piemonte. www.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Piemonte. www.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Piemonte.